Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e qui con me c'è Edoardo. Ciao! Edoardo indossa la maglia del Real Madrid della stagione 2021-2022, la maglia Home. La versione che vedete è la versione fan o replica, quella cioè un po' più economica. In questa versione lo stemma e il logo Alitas sono ad esempio ricamati. La prima maglia del Real Madrid è bianca come da tradizione, rifinita con arancione e azzurro che ritrovi anche nello scorso nella maglia. Questa maglia nella mia personale classifica merita 3 stelle. Questa è una maglia master che bisogna avere, ma a mio modesto parere quella dell'anno scorso era sicuramente ben meglio riuscita con le sue rifiniture al vaso attuo. Prima di lasciarvi alla visione vi ricordo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Se avete dubbio e volete lasciare una vostra impressione scrivete un commento, sarò felice di rispondervi. Buona visione! Presto! Ciao! Nella versione Fan, a differenza della versione Player, lo stemma e il logo Alitas sono ricamati. Il main sponsor invece è termosaldato, come nella versione Player. La versione Fan è realizzata con la tecnologia Aridas AeroReady. sul collo e sulle maniche sono ben visibili i dettagli arancioni e blu che caratterizzano questa maglia. Anche il retro della maglia è completamente bianco. I numeri sono realizzati in blu, all'interno dei numeri sono visibili gli stemmi del Real Madrid. Allora, vi è piaciuto il video? Spero di sì e spero di vedervi presto al prossimo appuntamento. Ciao! 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 Ciao!